Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Lazio-Venezia. Buona la prima, buona la prima per Baroni e per la sua Lazio, contro un Venezia onestamente modestissimo. Io credo che il Venezia possa essere seriamente la squadra meno attrezzata di questa Serie A, ma questo è un mio pensiero. Dicevo la stessa cosa dell'Empoli lo scorso anno, poi l'Empoli ha cambiato allenatore e poi è riuscito a salvarsi, ma il Venezia sono abbastanza sicuro che sia veramente la squadra meno attrezzata di questo campionato, non ha fatto neanche mercato. E quindi era preoccupante il fatto che dopo tre minuti ci fossimo ritrovati in svantaggio. Errore grossolano di Rovella nella nostra area di rigore che regala il gol dell'1-0 alla squadra di Di Francesco. Io però ero abbastanza sicuro che saremmo riusciti a riprenderla in qualche modo, perché ripeto, il Venezia squadra disastrata. Infatti dopo otto minuti Castellanos uccella Svoivoda e segna il gol dell'1-1. Poi lo stesso Castellanos è bravo e intelligente a procurarsi il rigore, trasformato successivamente da Zaccagni. E in quell'occasione gran bella giocata di Nosdin, che mi è sembrato molto a suo agio nel ruolo di esterno-destro d'attacco. Lui che ha giocato sempre esterno-destro d'attacco nella sua carriera, è stato spostato prima punta soltanto al Verona, dallo stesso Baroni, però si vede che Nosdin si trova molto a suo agio in quel ruolo. Per me è stato uno dei migliori in campo, anzi il migliore in campo insieme al Tati Castellanos, che poi ti ha fatto vincere la partita. Rigore procurato dall'argentino e trasformato da Zaccagni, tirato molto bene tra l'altro, raso terra sono i rigori difficili da prendere per i portieri. E poi il secondo tempo. Diciamo che la Lazio non ha creato tante palle gol fino a metà del secondo tempo. Poi ci sono state un paio di situazioni con Zaccagni, con lo stesso Castellanos, che ha colpito una traversa e poi ha colpito un palo. Però questo dopo il gol del 3-1, ovvero l'autogol di Altare, l'altro centrale del Venezia. Una bella azione con Gendusi che dà un filtrante a Lazeri, e Lazeri che è bravo a propiziare, a causare l'intervento di Altare, che se la butta dentro da solo rubando il gol a Chaunà. Ecco, mi dispiace perché Chaunà non è stato molto fortunato quando è entrato. Avrebbe meritato un gol perché era sempre al posto giusto, al momento giusto. Un altro che non mi è affatto dispiaciuto è Dele Bashiru. Ecco, Dele Bashiru non mi è dispiaciuto. Certo, ha fatto alcuni errori tecnici abbastanza maldestri, concedendo alcune ripartenze al Venezia. Però per il resto è un calciatore che si fa sentire molto a livello fisico e a livello di gamba. È molto veloce, cioè io credo che dopo Lazeri sia il calciatore più veloce che ha in Rosa la Lazio in questo momento. Quindi calciatore di presenza che oggi ha fatto bene. Oggi ha fatto bene e sono assolutamente contento. Però i migliori in campo per me sono stati Noslin e il Tati Castellanos, che poi, ripeto, è andato vicino alla doppietta in un paio di situazioni. Ad un certo punto ha fatto un'azione individuale, lui, il che la racconta lunga sulla situazione difensiva della squadra di Di Francesco. Attendo con ansia Tavares, perché a sinistra lì con Marusic siamo nulli, siamo nulli veramente. Ogni volta che la palla arriva a Marusic si perdono due o tre tempi di gioco. La difesa da rivedere, da rivedere perché, vabbè, Romagnoli ha rischiato di buttarsela dentro in due occasioni a fine partita. Se non fosse stato per Provedelle ci sarebbe assolutamente riuscito. Però poi il Venezia, ricordiamoci che il Venezia è andata vicina seriamente al gol del 2-2 con Aps. Fortunatamente Aps è una sega. Fortunatamente non conosce il piede destro e lì in quell'occasione ci ha andato col sinistro, svirgolando il pallone e colpendo poi col piede la testa di Casale, che nel frattempo era entrato in scivolata. Quindi, ecco, registriamo anche il fatto che la Lazio sia andata molto vicina a prendere il gol del 2-1, che secondo me è inaccettabile contro una squadra come il Venezia. Però sicuramente c'è da lavorare, si vedono delle buone cose. Avrei preferito dei cambi un po' più anticipati, delle sostituzioni un po' più anticipate. Però, ecco, mi risparmio giudizi per le prossime partite. Intanto ci vediamo tra pochissimo su Jazz Lazio. Il link è il primo in descrizione. Forza Lazio, sempre per sempre.